Buongiorno, sono qui per presentarvi il progetto Edirexpo Roma che ha la sua prima edizione qui a Fiera di Roma che ci accoglie in questa splendida location di livello internazionale per riportare a Roma il grande tema dell'edilizia, della casa, tutto ciò che serve per costruire ed abitare. Roma è una delle regioni con il pilo edilizio più importante dove c'era la necessità di creare un evento che facesse incontrare domande offerte, gli stakeholder e la presentazione di tutte le novità di questo settore che è sempre in continua evoluzione ed innovazione. Edirexpo Roma sarà divisa in tre grandi padiglioni più due aree esterne nel padiglione 4 troverete tutto ciò che riguarda l'edilizia leggera dove per l'edilizia leggera intendiamo vernici, decorativi, polveri, materiali tecnici, materiali costruttivi, attrezzature poi c'è un padiglione 6 dove c'è tutta la parte termoidraulica, dove c'è tutta la parte infissi, seramenti, fotovoltaico tutto ciò che è l'impiantistica che serve in una casa, in un condominio, in una costruzione in generale nel padiglione 5 troverete bellissime aziende che parleranno di outdoor, quindi arredamento giardino, costruzione giardino e il design abitativo per l'interno della casa produttori artigianali di divani, sistemi di riposo, illuminotecnica, ceramiche, marmi insomma tutto quello che è l'aspetto decorativo con una grande area esterna dove ci saranno tutti i mezzi di sollevamento, escavazione, movimento terra e tutto ciò che serve nel cantiere per l'impianto del cantiere abitativo e il Respo Roma nasce con questo obiettivo, portare qui a Roma tutti gli addetti ai lavori del mondo della costruzione ma con una chiave di lettura anche al cliente finale perché nell'area del web sempre di più il cliente finale conosce i materiali, vuole sapere cosa c'è a casa loro come c'è l'evoluzione della costruzione, l'abbattimento di glassi abitativo, risparmio energetico quindi questa fiera è organizzata, è piena di convegni fatte da reglatori di altissimo livello che presenteranno le novità e daranno l'orientamento al mercato di questo settore che sempre di più deve vedere in Roma un punto di riferimento quindi tutte queste informazioni e i convegni che saranno qui in Fiera di Roma li potete trovare anche sul sito di exporoma.it oppure seguendoci sulla nostra pagina Facebook di Exporoma troverete sempre in maniera puntuale ed aggiornata tutte le informazioni che vi servono per scegliere il momento giusto per venire a Fiera di Roma vi aspettiamo, ricordiamo che da lunedì a giovedì l'ingresso sarà gratuito sicuramente vedrete cose che vi faranno percepire una casa diversa che è quella del futuro Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!